Buongiorno, bentrovati. Appuntamento di giovedì 16 febbraio 2017 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Oggi si ricorda Santa Giuliana di Nicomedia, il santo del giorno ricordato dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo come sempre la nostra rassegna stampa partendo dai quotidiani regionali, poi vedremo anche i titoli principali dei giornali nazionali che troverete oggi in edicola. Iniziamo con il centro, con le quattro edizioni, partiamo dall'edizione di Pescara, vediamo il titolo principale che riguarda le conseguenze del maltempo, con D'Alfonso, il presidente della regione che vuole di più il pressing sulla protezione civile per gestire i rimborsi dei danni indiretti. Poi in alto, oggi l'esponente del Movimento 5 Stelle di Maio sarà all'Aquila e visiterà anche la sede della protezione civile regionale. E poi invece, per quanto riguarda il sindacato, la Will ha congresso perché inizierà l'era Lombardo. Lombardo sarà il nuovo segretario regionale della Will al posto di Roberto Campo e parte intanto l'esposto sull'Arap. Vediamo le altre notizie che riguardano la provincia di Pescara e la nostra regione in generale. Sisma, conto all'Unione Europea, richieste per 23 miliardi. E poi impiegati statali, la riforma e poi il contratto. Passando a Pescara, in questo caso la cronaca, torna libero il ladro ferito dal colpo di fucile due giorni fa all'alba di due giorni fa nel tentativo di furto in un'abitazione di spoltore. E poi la cronaca giudiziaria, Zingariello, mai esistito un contratto del sesso, si parla del processo che si sta tenendo a Pescara. E poi la cronaca, ancora la cronaca a Rosciano, grave operaio 59enne dopo una caduta dalla bicicletta. In basso si parla di calcio, del Pescara. Pescara e Zeman sarebbero molto vicini. Ieri l'incontro a Roma tra il presidente Sebastiani, il direttore sportivo Peppe Pavone, il grande tessitore di questa trattativa perché Pavone è stato con Zeman, l'artefice di Zemanlandia a Foggia. E' appunto l'incontro a cui ovviamente ha preso parte anche il tecnico Boemo, che dovrebbe dare, dovrà dare una risposta nei prossimi giorni. C'è comunque incertezza su quella che sarà la decisione del tecnico 69enne di Praga. Andiamo avanti con l'edizione di Chieti del centro. Vediamo le cronache dalle province. Vasto, attentato incendiario ad una donna di 94 anni, poi Lanciano, bancarotta, condannati Allegrino, padre e figlio, Chieti, cardiologia traslocata in appena due giorni. E poi a Casolis, Colabus, arrestato l'autista, l'accusa dice, chiede all'alunna di filmarsi e fotografarsi nuda. E poi a Vasto, di Lello, già chiede di tornare in libertà. Questa è la richiesta dei suoi legali per una presunta incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del giovane. Andiamo avanti, siamo alla cronaca, all'edizione del centro di Teramo. In questo caso vediamo quali sono le cronache da Teramo e provincia. Si parla ancora di maltempo. La prima stima dei danni frane in città, 2 milioni e mezzo. Questi i danni, almeno in questa prima stima iniziale. E poi droga nel parcheggio dell'ospedale, 4 arresti, poi inchiesta su 31 medici per la morte di un paziente. La magistratura chiede l'archiviazione. E poi autorizzazione della regione, ASL, in arrivo 86 assunzioni dovranno coprire i pensionamenti, che però sono molti di più. E poi a Pietracamela, niente rischi di slavine, riapre la stazione sciistica di Prati di Tivo. E chiudiamo, per quanto riguarda il centro, con la prima pagina dell'edizione dell'Aquila. Proprio all'Aquila c'è il giallo sui parcometri attivati per errore. Avezzano, padre separato, da otto mesi non vede più suo figlio. E poi a Scanno, teppisti nella chiesetta avvelenata, l'acqua santa. E poi torniamo a parlare della vicenda terremoto e processo all'Aquila, a casa dello studente. Chiesti 6 milioni parti civili all'attacco, la tragedia si poteva evitare. E poi il caso sul Mona si spopola e diventa più vecchia. Questa l'indagine demografica sulla città Pelinia. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Calamità, 50 milioni di danni, sisma e neve, le prime stime del gennaio, terribile. E poi Scuolabus, l'autista ad una quattordicenne, mandami foto hard. Questo quanto accaduto in provincia di Chieti, nell'area frentana. Poi Pescara, Zeman dice no per adesso. Vedete un po' diverso il titolo del messaggero rispetto a quello del centro su questa vicenda. Il centro che parla di accordo molto vicino, messaggero che dice che Zeman, almeno per il momento, avrebbe declinato la proposta, l'offerta del Pescara. Ma nelle prossime ore ovviamente sono attese ulteriori novità. E poi vediamo altri titoli dalla parte centrale della pagina dell'inserto Abruzzo, della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, tangenti, la segretaria accusa in aula l'ex assessore Luigi De Fanis in corso il processo a Pescara. E poi, ancora Pescara, schianto in BMW sulla tangenziale grave, l'avvocato Paolo Marino rimasto ferito in un incidente. E poi ce l'hanno, il sindaco prepara le ronde, i ladri gli svaliggiano la casa. Allora lasciamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Per chiudere con la prima pagina del quotidiano La Città, tutti invitate alla propria testa al casello, tra divisioni politiche e qualche distingo, confermata la mobilitazione di sabato contro il decreto Sisma. E poi Frane, vedete, più in basso, anche Castelnuovo a rischio, allarme a Campli, a Ponzano di Civitella, La terra non si ferma più, vi anticipo che poi vedremo un servizio proprio sulla situazione che stanno vivendo i residenti di Ponzano di Civitella, in provincia di Termo. Allora lasciamo le prime pagine dei quotidiani regionali oggi in edicola. Possiamo andare a vedere ora, come sempre, facciamo i titoli dei quotidiani nazionali che sono oggi in edicola. Ovviamente daremo uno sguardo a quelli che sono i titoli degli argomenti principali sia di cronaca nazionale e di quelle che sono anche le cronache sportive, tanto per ricordare, per esempio, che ieri in Champions League, parliamo ovviamente di calcio internazionale, c'è stata la sconfitta pesante del Napoli per 3-1 in casa del Real Madrid. Partiamo allora con la prima pagina del Corriere della Sera. Trump cambia la linea su Israele e dunque potrebbero esserci problemi nei rapporti tra i due paesi. E poi in alto vedete il richiamo di sport che vi stavo dicendo. Champions League, il Napoli prima si illude, poi cede al Real Madrid. Poi, tornando alla cronaca, a centropagina la foto, ieri funerali del sedicenne suicidato. La madre, ho chiamato io i finanzieri, lasci i controlli e poi la tragedia con il suicidio. Di questo giovane di appena 16 anni. La Repubblica, Trump-Putin, s'allarga lo scandalo e salta pure il Ministro del Lavoro. La politica interna, escluso il voto a giugno, nel PD si cerca una tregua. Siamo al messaggero, privatizzazioni, sfida nel governo, Padoan, dimissioni per ridurre il debito, timori sbagliati, altolà di Del Rio e Giacomelli, braccio di ferro su poste e ferrovie. Svolta sociale di Renzi sull'economia più ruolo allo Stato. E poi vedete la foto, a centropagina, Trump su Israele e Palestina per la pace. Non servono due stati, dice il neopresidente americano. E poi a Roma, Romeo, terza polizza a raggi, il giallo della cassetta svuotata. Il fatto quotidiano, web, vietate le notizie esagerate, ma stampa e tv possono mentire. E poi in alto, raggi sia lo stadio e cubature dimezzate, dunque riapertura del sindaco di Roma sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere a Roma, stadio dove giocherebbe la formazione giallorossa. Restiamo a Roma con il tempo, il sindacato fra microspie, veleni e dossieraggi. Ecco a voi Cislopoli, c'è questa inchiesta del tempo. Su quello che accade all'interno della Cisli. Caso Campania esplode a Roma, presto la decisione dei probiviri, scrive il tempo, sui vertici, atti inediti e voci dei protagonisti. Soltanto il segretario Furlan non risponde al tempo. Andiamo avanti, siamo al quotidiano La Stampa, PD patto a tre per la scissione. C'è questo sondaggio del quotidiano torinese. Cala la popolarità dei democratici, degli elettori delusi dalle liti. Andiamo ancora avanti. L'unità Pietra Tombale sulla pace. Trump e Netanyahu seppelliscono la soluzione di due popoli e due stati in Palestina. E poi vedete questa foto a centropagina con questa ragazza in bici con una mascherina. mezza Europa sotto accusa lo smog uccide 400.000 persone l'anno. E dunque c'è questa inchiesta del quotidiano. L'unità con proprio la problematica dello smog in primo piano in diversi paesi del vecchio continente. Siamo al mattino di Napoli che punta tutto in prima pagina sul calcio. Proprio sulla sconfitta del Napoli alla Santiago Bernabeu 3-1. Il finale in favore del Real Madrid. Scrive il mattino. Non finisce qui. Illusi da una magia di insignia. E poi De Laurentiis punge Sarri. Poca cazzimma in tanti. Non giocano mai questo termine in dialetto napoletano. Polemica dunque tra Sarri e il presidente De Laurentiis. E poi libero. A casa fini girano milioni. Le nuove rivelazioni della magistratura dal re delle slot machine Corallo ai Tulliani. Versamenti per 4 milioni e mezzo. I soldi girati dopo che A.N. si era mossa per salvare gli affari dell'imprenditore. La prova che Gianfranco, indagato per ricettazione, sapeva tutto dell'immobile di Monte Carlo. Scrive il quotidiano libero. Il gazzettino di Venezia. Lo Stato nelle popolari venete. C'è l'intervista al numero 1 della Popolare di Vicenza che dice che il 62% dei soci è interessato ai risarcimento. Solo l'8% ha detto già no. E poi questa notizia che arriva da Treviso dove c'è il mistero per questo barbone, questo senza tetto ucciso a bottigliate. Proprio all'interno della stazione trevigiana. Siamo al manifesto calata di cemento. Si parla di Roma, dei programmi della giunta capitolina che prevederebbero più cemento in città. Almeno secondo il manifesto. E poi il secolo XIX, il giornale quotidiano di Genova PD. La scissione ricomincia da Tre. Intesa tra Emiliano, Speranza e Rossi dopo l'Assemblea il nuovo movimento. Il secolo XIX poi affronta anche questa notizia di cronaca di due giorni fa di questo ragazzino di 16 anni suicidatosi dopo la perquisizione nella sua casa, nella sua stanza dove sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana, ragazzo che poi si è suicidato. La finanza, dice, chiamati dalla madre del ragazzo. Così è nato il BITS a scuola, il dolore della donna che proprio dopo i funerali ha detto, rivolgendosi ai giovani, di non sballarsi. Siamo al quotidiano avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Un cantiere di pace a mosuli islamici con i cristiani per le chiese, insieme per la ricostruzione dopo la furia del Daesh. E poi il Papa agli indigeni, chiedete rispetto, i governi vi tutelino. E poi la politica, Renzi blinda il simbolo e sfida la minoranza del partito democratico. La gazzetta del mezzogiorno, il PD destinato a farsi in due, appello di Renzi all'unità, ma la minoranza non ci sta. E dice partito personale, l'opposizione scissionista si riunisce sabato a Roma e ci sarà Emiliano che si è candidato per le elezioni a segretario nazionale del partito democratico. Quotidiano la verità, fini e tutto, furché un... qui leggiamo un termine che non pronunciamo, il GIP soldi in cambio di leggi ad hoc. Questo è il titolo un po' forte sulla vicenda che vede protagonista l'ex segretario di Alleanza Nazionale. E poi più in basso la foto, vedete, bastonano la raggi, ma nessuno dice nulla sui compensi dell'assessore ex Microsoft. E poi a centropagine un altro titolo, i gay hanno voluto le nozze, però non si sposano da quando è entrata in vigore la legge Cirinna, registrate solo 942 unioni civili, un fallimento come nel nord Europa, scrive il quotidiano La Verità, che è l'ultimo giornale nazionale che prendiamo in esame per quanto riguarda l'edicola dei quotidiani oggi. Proprio in edicola possiamo ripartire dal quotidiano Il Centro per andare a vedere ovviamente quali sono invece in questo caso i titoli, gli argomenti trattati nell'edizione di oggi. Poi parleremo anche di sport, in particolare del Pescara e anche del Teramo, perché ovviamente in casa Pescara si parla, e non poco, della vicenda Zeman con questa risposta del tecnico Boemo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, difficilmente, però accadrà qualcosa, almeno in vista della gara di domenica prossima all'Adriatico con il Genoa, quando dovrebbe andare in panchina Luciano Zauri che sta guidando il Pescara dopo l'esonero di Massimo Oddo che ha salutato i tifosi con una lettera su Facebook. Ma andiamo alle pagine interne del centro, si parla di politica in primo piano, a pagina 3 perché c'è l'incubo spaccatura per i democratici anche in Abruzzo, anche se nella nostra regione nel partito si sogna l'unità. Il segretario regionale Rapino dice al Congresso, non è un gioco di figurine, Alfonso dice mi occupo d'altro, di Pangrazio, chi non ci sta può andarsene. E vedete nelle foto i protagonisti proprio del centro-sinistra della politica della nostra regione. Poi in basso c'è il retroscena perché alla riunione dei Dalemiani spunta Mazzocca che è esponente di sinistra italiana. E poi vedete politica il caso Roma, Marra verso il giudizio immediato, ancora problemi per la giunta capitolina guidata dall'esponente del Movimento 5 Stelle. E a proposito di 5 Stelle, oggi uno dei massimi esponenti, scusate il gioco di parole, nazionale dei pentastellati, Di Maio farà visita all'Aquila, l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle che si intitola Facciamo strada all'Abruzzo. Il capogruppo in Consiglio regionale, Sara Marcozzi, dice guardiamo al futuro. E intanto l'altro consigliere regionale del Movimento, Domenico Pettinari, dice stoppa i tagli all'ENAV, sicurezza a rischio. E siamo alla vicenda, la questione del maltempo, maltempo e risarcimento. Arriva il commissario per la conta dei danni, la delega, sull'emergenza al governatore Luciano D'Alfonso. E poi in basso anche il mare nell'elenco, rifiuti spiaggiati da ripulire. Mazzocca dice compito dei comuni. E poi i saldi dureranno fino al 26 marzo. Confcommercio, gli eventi meteo hanno infatti impedito le vendite. Dunque si allunga il periodo di saldi della nostra regione fino al 26 marzo. E poi parlando ancora di maltempo e di richiesta di risarcimento, c'è questo retroscena con D'Alfonso, il presidente della regione, che chiede di più lettera al capo dipartimento nazionale della protezione civile Curcio. Il presidente D'Alfonso punta a sbloccare i rimborsi per i danni indiretti. Vediamo questo risvolto dell'articolo. Partita aperta con il governo. Il presidente della regione vuole infatti accelerare sulla ricognizione e la stima delle somme necessarie per assicurare i risarcimenti. E poi vedete in basso per la protezione civile occorrono 23 miliardi fondo di solidarietà. A Proda Bruxelles il fascicolo sugli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Saltiamo le pagine di cronaca nazionale con alcuni titoli e argomenti che abbiamo già visto proprio nella rassegna stampa nazionale con i quotidiani nazionali Oggi Nedicola. Torniamo a parlare di cronaca della nostra regione, del cambio nel sindacato, perché nella Will finisce dopo 12 anni l'era di Roberto Campo. Il nuovo segretario sarà, lo vedete nella foto, Michele Lombardo, sarà il nuovo segretario regionale della Will. In questa pagina c'è il saluto dell'uscente Roberto Campo che dice «Vedo luci e ombre, speravo di farcela con i tagli IRAP e IRPEF». E le proposte di colui che sarà il nuovo segretario regionale della Will che dice «Vengo dalla gavetta e voglio restare accanto alla gente». E poi esposto contro l'Arap incarichi per 1.400.000 euro. La denuncia della Will di Teramo. «Tagliano il personale mentre pagano le consulenze, la replica del presidente ci temono perché cancelliamo i privilegi». Dunque botta e risposta tra Dijamartino della Will e Leonbroni, presidente dell'Arap, che vedete nelle due foto. E poi Regione Trenitalia, bici gratis sui treni, c'è l'accordo, ma in pochi lo sanno e in questo articolo ci sono le dichiarazioni anche dell'ex consigliere regionale ed esponente di rifondazione comunista Maurizio Acerbo, che era stato tra i primi a puntare proprio su questo accordo con Trenitalia da parte della Regione per far viaggiare gratis le biciclette dei passeggeri sui treni regionali. Siamo arrivati alle cronache provinciali, partiamo da Pescara dove si parla ancora di cronaca della difesa Fai da te perché torna subito libero il ladro ferito con un colpo di fucile. Ricorderete questa vicenda, ne avevamo parlato anche due giorni fa, di questo ladro, questo giovane romeno di 18 anni sorpreso dal proprietario che ha esploso un colpo di fucile a pallini, un fucile per uso sportivo legalmente detenuto, questo ladro arrestato e leggermente ferito, è tornato subito in libertà. E poi intanto parla l'esperto di sicurezza che dice mai affrontare i banditi, diffidate dei sistemi low cost. E poi il processo a porte chiuse, oggi in aula la Zingariello, anche nei giorni scorsi dice mai esistito alcun contratto del sesso, la segretaria di Defanissi nel tribunale ho patteggiato perché la mia vita era devastata, i due si sono ignorati. E poi si parla della vicenda Bucco a Pescara, il legale dice chissà qualcosa parli perché il procedimento sull'indagine è stata archiviata e poi la polizia cerca un piumone rubato e trova Mariana arrestato un 33enne. Questa è una notizia di cronaca e ancora cronaca perché il noto avvocato, il noto penalista pescarese Paolo Marino è rimasto ferito l'altra notte in un incidente sulla circonvallazione nei pressi di Francavilla ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara. E poi torniamo a parlare anche dalle pagine della cronaca provinciale di Pescara delle conseguenze del maltempo, anche nel pescarese smottamenti tra Pescara e Spoltone, Fosso Grande viene giù, crollata la pista ciclabile. Vedete queste foto, c'è dell'argine consolidato un anno fa, la terra finisce nel canale e rischia di ostruirlo, il comune blocca l'accesso e lancia l'appello al genio civile, servono nuovi lavori. E poi in basso l'operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara diretti dal Maggiore Claudio Scarponi, che hanno riguardato soprattutto la zona della Riviera e dall'area di Risulta, sequestrati soldi ai parcheggiatori abusivi, portati via anche 50 capi di abbigliamento. E poi gli studenti dell'agrario trasferiti scuola nell'agroalimentare, il caso finisce in procura, protesta infatti di 50 genitori. Davanti alla sede ritenuta inagibile, annunciato un esposto, ispezione di carabinieri e vigili urbani, una ragazza accusa un malore per il caldo. In basso Rotaract aiuta i ragazzi a scegliere la facoltà, seconda giornata di formazione universitaria, questa mattina all'Istituto Tito Acerbo per evitare la fuga di cervelli. E poi manifestazione davanti a Montecitorio, vigili del fuoco di Pescara in piazza, proprio questa mattina dicono siamo eroi sottopagati. Oggi la protesta del Conapo a Roma per chiedere l'equiparazione con gli altri corpi. Il sindacato sollecita nuove assunzioni per fronteggiare la carenza di organico. E poi luci, accordo con Ele e il sole, spente le luminarie d'artista a Pescara. E poi invece per quanto riguarda la fraternita della misericordia di Pescara, dal 23 febbraio ci sarà il nuovo corso, il nuovo corso di primo soccorso per gli aspiranti, volontari. Ancora avanti, psicoterapia nel caos, anche il comune avvia un'indagine. Il primario del centro di salute mentale, Marilisa Morosi, sentita dalla Commissione Sanità, convocato anche Trotta. E poi in basso il sindaco di Farintola, Cassa Integrazione per i 21 dipendenti dell'hotel Rigopiano. Questa è la richiesta del primo cittadino del centro vestito, dopo le conseguenze della tragedia della valanga del 18 gennaio scorso, che come tutti ricorderete causò 29 morti. Ancora avanti, siamo alla pagina di Francavilla, dell'area metropolitana di Pescara. Francavilla, arrestate due ladre di appartamenti, giovani donne dei campi rom, sorprese a rubare dal proprietario della casa. E ancora Francavilla, lecidio degli ebrei, ragazzi del Masci, di scena al Tosti. E poi in basso, sempre a Francavilla, rete del gas in arrivo nei rioni collinari, Mercatone 1 in vendita, il Megastore di San Buceto, bando nazionale del Ministero. Allora, possiamo fermarci prima di andare a vedere la cronaca sempre dal quotidiano il centro di Montesilvano? Fermarci per qualche attimo, andremo a vedere insieme e seguire le previsioni del tempo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, eravamo alla pagina di Montesilvano del centro, spaccia stupefacenti durante il permesso ottenuto dal carcere, fermato a Montesilvano un 44enne con eroina e cocaina. E poi pagamenti senza sanzione fino a otto rate, c'è tempo fino al 2 maggio per rottamare le multe. Sempre a Montesilvano, restiamo nella città adriatica, quartiere PP1, troppe opere sono incompiute, operatori economici e professionisti della zona dei grandi alberghi chiedono interventi urgenti all'amministrazione del sindaco Maragno. E poi scuole, un concorso della sezione Alpini sulla grande guerra, questo concorso segnalato e è promosso proprio dalla sezione Alpini. E poi Montesilvano, Orsini, critiche strumentali da Montesilvano 2019. Mentre a Pianella è fallito l'appalto Global Service, il consigliere di minoranza di Tonto attacca la giunta Marinelli. Infine a Spoltore, comunicare nell'era dei social, gli esperti incontrano gli alunni della scuola media Dante Alighieri. E siamo alla pagina di Penne di Popoli e dell'Alta Val Pescara. Partiamo dalla parte alta della pagina. Rosciano, ciclista in rianimazione, operaio 59enne, perde il controllo della bicicletta e urta contro un palo della pubblicità ricoverato nel reparto di rianimazione. In prognosi riservata sulla dinamica, indagano i carabinieri della stazione di Rosciano. E poi è ancora possibile salvare i reparti del nostro ospedale Popoli. Il movimento avanti tutta confida nella revisione del piano di riordino dopo un incontro politico in Regione. Appene campi di calcio danneggiati, un vertice in programma con la FIGICI Abruzzo. E poi in basso, sempre a Penne, vivere nell'incubo delle frane, con l'alto e mallo le contrade più martoriate dal dissesto idrogeologico. E siamo alla pagina di Chieti e della provincia, sempre dal centro. Sciocco sullo scuolabus chiede all'alunna di filmarsi nuda. Autista, 64enne di Casoli, finisce agli arresti domiciliari. La procura di Lanciano lo accusa di corruzione di minore. E poi, Allegrino e il figlio condannati per bancarotta a Lanciano, mentre a Vasto i legali di Lello dicono non è pericoloso. Vasto omicidio di Elisa, la difesa impugna l'ordinanza ai giudici del riesame. E poi, a fondo pagina, cardiologia traslocata in soli due giorni dal vecchio ospedale. Di Chieti al polo cardiologico, il primario Caputo dice stanze più confortevoli. Siamo alla pagina dell'Aquila, della provincia. In questo caso siamo nella Marsica d'Avezzano. Burocrazia lenta, da otto mesi non abbraccio mio figlio. Il dramma di un padre separato, decisione del tribunale disattesa, troppe pratiche da sbrigare. Non c'è l'assistente sociale. Sempre nella Marsica, ma a Celano, ladri in casa del sindaco, spariti oro e abiti. Ennesimo raid dopo il colpo ai danni di un ex assessore. Comitato Città Sicura si mobilita. E poi all'Aquila, in basso, vedete, casa dello studente. Chiesti danni per 6 milioni. Le parti civili chiamano in causa i gestori dell'edificio e chi realizzò i restauri. E siamo alla pagina di Teramo Sanità. Da rilanciare, asl ok della regione, ad 86 assunzioni. Il provvedimento è stato preso per compensare i pensionamenti, che però negli ultimi due anni sono stati ben 350. E poi a Pietracamela il sindaco riapre Prati di Tivo. Tutto ok per hotel e bar, per gli impianti si valuta giorno per giorno. E poi Frane, 2 milioni e mezzo di danni in città. A Teramo l'assessore fracassa dice una prima stima. Il conto è destinato a salire nei prossimi giorni. Siamo arrivati alle pagine della cultura e degli spettacoli. Dunque possiamo spostarci dal centro al messaggero per andare a vedere anche in questo caso le cronache provinciali nell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Oggi in edicola. Avevamo già visto all'inizio di questo appuntamento con Mattino 6 la prima pagina del messaggero Abruzzo. Ora andiamo a vedere, e lo faremo tra qualche istante, le pagine interne. Vedremo quali sono gli argomenti trattati nel giornale di oggi. Abbiamo visto il titolo principale che riguarda le conseguenze del maltempo. Ritroviamo anche questo titolo nella seconda pagina. Maltempo e terremoto, già 50 milioni di danni. La prima stima della regione è che deve ancora valutare le conseguenze indirette. Ipotesi di un calcolo finale di 70 milioni. La strada normativa per i risarcimenti. E poi a centropagina. La segretaria accusa De Fanis. Sì, sapevo di quelle tangenti. Lucia Zingariello ha confermato anche l'incontro tra l'ex assessore ed il musicista Andrea Mascitti. Andiamo più in basso. PD, Pezzopane e Coppola, Antiscissione. Le due esponenti democrat hanno partecipato alla direzione. Dividerci dicono sarebbe un errore. E poi prodotti d'immagine. Le olive di Carsoli debuttano al cinema. Siamo alla pagina di Pescara. Per quanto riguarda il messaggero. Rottasse, la rottamazione salva i balneari. Il sollievo di Padovano. Siamo in causa con il Comune. Ora eviteremo le sanzioni fino al 200%. Sulla COSAP vanno presentate entro il 2 maggio le domande per il condono utilizzando il modulo presto disponibile sul sito web dell'ente. Ma noi abbiamo ascoltato ieri l'esponente politico pescarese, anche esponente della Sib Conf Commercio Padovano, che ha parlato anche delle problematiche del fiume Pescara e della balneazione delle acque. in vista della prossima stagione estiva. Noi non possiamo stare più negli attesi, negli uffici, attendere progetti esecutivi o non esecutivi. Noi vogliamo delle risposte forti, chiari e all'apertura da subito dell'inizio dei cantiere. Tre cose fondamentali, diciamo, da subito che la regione Abruzzo deve fare. A. Mettere su il cantiere per quanto riguarda l'apertura della diga forania. Realizzare da subito un'area di cantiere, cioè la soffolta di venti largine del fiume Pescara, che consenta ad essa di evitare che il fiume vadi a nord. Tre, fare subito un progetto di massima urgenza, di abbassare le scogliere, di renderle soffolte, in modo da riconsentire la balneabilità almeno nel tratto più a rischio. E mi riferisco a quello che viene ogni volta denunciato, cioè l'area dei 300 metri del Molo Nord. Già lo scorso anno abbiamo avuto delle resistenze per posizionare le palle galleggianti e abbiamo avuto resistenze perché molto probabilmente la politica non era convinta. Adesso la politica sta all'angolo, si faccia da parte, dia sfogo alle nostre rabbie, ma che non sono le rabbie perché dietro di noi non ci stanno soltanto gli stabilimenti balneari. Che ne dica qualcuno, dietro c'è un indotto e basta chiedere alle ditte fornitrici del settore del food per dire loro, per sentire loro se la stagione 2016 è stata una stagione che ha portato incremento. È stata una stagione che ci ha fatto perdere circa il 50%. Se adesso D'Alfonso e chi per lui non convega un'assemblea pubblica e dica lui il da farsi, ma tenga conto dei nostri suggerimenti, sfoltimento delle scogliere, l'apertura subito del cattiere per iniziare il lavoro del taglio della diga e adesso a costruire subito l'arce per fare l'area di cantiere. Parliamo ancora della cronaca di Pescara, sempre dal messaggero. Si parla di università, in questo caso vedete il nuovo rettore. Fusero è già in campo, l'urbanista annuncia la candidatura e dice l'Ateneo deve ritrovare performance e serenità. Sull'altro fronte emerge Stefano Trinchese. Poi più in basso Pescara, i meriti di Acerbo e quelli del Vate. I 90 anni della città tramito e storia, così prese forma la profezia del re Vittorio Emanuele II. E poi al massimo omaggio Gezza Sergio Leone e Mauro Campobasso in scena. Proseguiamo. Incidente grave l'avvocato Marino, il noto penalista, perso il controllo della sua auto, ricoverato in neurochirurgia all'ospedale di Pescara dopo un incidente accaduto all'alba di ieri sulla tangenziale nei pressi di San Silvestro. E poi soccorso all'alba, ciclista cade e finisce contro un palo a Rosciano, mentre per quanto riguarda i nodi urbanistici, dunque cambiando argomento, i nodi urbanistici di Pescara, Pescara Porto lunedì in aula, se ne parlerà in Consiglio Comunale. Poi stretta sull'immigrazione in campo anche i carabinieri, sempre a Pescara, controlli a tappeto nell'area di risulte. Sulla riviera scatta l'espulsione per due senegalesi senza permesso di soggiorno. Una settimana fa la prima operazione della questura, il giro di vite, riguarda anche il commercio abusivo. E al Matta il teatro di venta sociale. Da domani sera al 12 maggio i nuovi spettacoli, previste repliche per gli homeless on the road. Ieri a tal proposito vi avevamo fatto vedere un servizio proprio sulla stagione inaugurale del Matta nel corso del Tg6. Proseguiamo, andiamo ancora avanti. L'area metropolitana di Pescara, Rigopiano, la procura punta al processo. Cominciati i rilevi del RIS con il laser utilizzato a Nasseria, dieci giorni per ricostruire la scena al momento della valanga. La posizione di auto e macerie dell'hotel aiuterà il lavoro dei periti, ma soprattutto servirà a sostenere l'accusa in aula. E poi rischio valanghe, la mappa entro il 2018, lo dice il presidente della regione Luciano D'Alfonso. In basso Montesilvano entro maggio la rottamazione delle cartelle, mentre Lucio Leggetto di Via Riosto nasce il tavolo sui guai del quartiere PP1. Lotta al degrado senza confini da parte dell'amministrazione comunale. Siamo alla pagina dell'Aquila con la notizia che riguarda la sanità, perché dalla ASL arriva un segnale di speranza, uffici in centro storico dal 2018. Vediamo a tal proposito il servizio di Germana Dorazio. Mentre slitta di altri due mesi l'attesissimo bando di agevolazioni per le attività commerciali che tornino in centro storico all'Aquila, la ASL numero 1 annuncia il trasloco della sede legale di rappresentanza dalla periferia al centro città, in Piazza Duomo. L'azienda sanitaria è infatti proprietaria di una superficie di circa 2000 metri quadrati, parte dell'aggregato urbano Le Tre Vie in Via San Marciano, in cui saranno appunto trasferiti gli uffici della direzione generale, che oggi si trovano in località Campo di Pile. Da molti mesi sono in corso gli interventi di adeguamento sismico e strutturale dell'edificio di Via San Marciano, collocato nell'area di Piazza Duomo appunto, interventi che si concluderanno più o meno tra un anno. Ad annunciarlo è il manager Rinaldo Tordera, che sottolinea che il trasloco della sede legale di rappresentanza consentirà di coniugare al meglio l'aspetto logistico e le esigenze di risparmio, azzerando le spese attualmente sostenute per l'utilizzo dell'immobile di Via Saragat. Oltretutto, la collocazione in Piazza Duomo, sottolinea il manager, contribuirà a ridare un po' di vivacità e slancio alle attività del luogo. La presenza di un'importante realtà lavorativa all'interno dei gangli vitali della città rappresenterà una piccola spinta per la ripresa del centro storico, anche in termini di fervore quotidiano e ricadute positive per le attività di quest'area urbana. Il trasloco della ASL, conclude Tordera, va quindi ben oltre il risvolto logistico organizzativo, che pur ha la sua importanza, ma rappresenta di fatto un vero e proprio investimento sociale ed urbano per il cuore dell'Aquila. Restiamo all'Aquila, sempre dalle pagine del messaggero, cambiando argomento. Casa dello studente, grandi rischi, doppia battaglia in sede civile, richieste record di risarcimento dei danni, duello aperto in tribunale. E poi aggiorni il bando per gli incentivi alle imprese, mentre dall'Olanda, pronti ad arrivare in città bene 3 kg di cocaina, la retata antidroga da parte degli agenti delle Forze dell'Ordine, degli uomini delle Forze dell'Ordine, all'Aquila, con una operazione portata a termine all'alba di ieri. Scuole, c'è bisogno di 90 milioni per l'adeguamento, il dato è contenuto in un report stilato dalla provincia, le cifre vanno reperite, per il classico servono 10 milioni e 700 mila euro. E poi, asilo occupato, il comune trove almeno locali agibili per i giovani. E poi il tecnico, tutti gli istituti cittadini devono essere per forza ricostruiti. Andiamo ancora avanti, sempre dalle pagine dell'Aquila e del Messaggero. Una strada cittadina sarà intitolata ad Amatrice, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche sono arrivati i fondi. Il Cipe ha stanziato 57 milioni di euro per 43 interventi. Tra i lavori più attesi ci sono il Palasport dei Giapponesi ed il Teatro Tenda di Paganica. E poi Lauretana, via i palazioni, arrivano alloggi. Più bassi la città che rinasce. E siamo nella Marsica, Celano, svaliggiata la casa del sindaco. Una banda da giorni sta imperversando. L'appartamento è stato saccheggiato ed è stata pure divelta. La cassaforte. E poi Capistrello, tentata estorsione al ristoratore, due misure cautelari. A Sulmona, personale comunale, chiede di revocare il concorso. Sempre a Sulmona, pratica ferma da un anno, porta una torta in comune, mentre a Castel di Sangro, morto Pagliafora, il carabiniere eroe che salvò da un incendio in galleria alcune famiglie rimaste intrappolate. Ad Avezzano una sala sarà intitolata al Beato del Portillo, mentre sempre nella città marsicana, Borgo in Cile, pronto un progetto per la valorizzazione. Siamo alla pagina di Chieti, sempre dal messaggero, Via Olivieri lavori a ritmo serrato, riaprirà solo ai bus, emergenza piena per frane e voragini, chiusi parcheggi e strade, mercati sospesi, pesanti conseguenze per l'economia cittadina. E poi rottamazione delle cartelle di Paolo contro il comune, l'esponente di giustizia sociale, attacca l'amministrazione comunale. E poi San Valentino in fumo, denunciata alla donna che ha incendiato la casa nel giorno di San Valentino. E poi in basso, cibo scadente, lavoratori sfruttati, dito puntato sulla mensa, il blitz del consigliere regionale di Forza Italia Febbo in ospedale dopo il cambio del servizio, lo scandalo dei salari tagliati, questo l'atto di accusa dell'esponente, di centrodestra. E poi Lorco era l'autista dello scuolabus, aveva costretto una quattordicenne a scambiare con lui Fotoardo, un 64enne del Chietino, in manette per violenza sul minore. E poi a Vasto, chiesti domiciliari per Fabio Di Lello, grave la sua condizione psicologica, il 34enne Vastese, ha ucciso il giovane Italo De Lisa per vendicarsi della morte della moglie in un incidente domiciliari chiesti proprio dai suoi illegali per la grave condizione psicologica del loro assistito. E poi Lanciano, beni e conti sottratti dal fallimento, condannati Allegrino, padre e figlio. Ad Ortona, sede inagibile la finanza nei locali dell'ex ospedale e poi in basso, bocciata dalla Corte Costituzionale, la legge sulla costa dei Trabocchi. Siamo arrivati alle pagine di Teramo e della provincia, scuole, riapre la Noe Lucidi, altri cinque istituti off limits in città. Asle, poche assunzioni, dimezziamo i servizi, dicono, mentre in basso, all'arma e turismo, i sindaci preparano la protesta. E poi allevamenti in pericolo a Contrada Mezzanotte per il dissesto idrogeologico. Alcuni giorni fa vi avevamo proposto un servizio proprio sulla situazione che si sta vivendo in Contrada Mezzanotte di Teramo. Siamo a Giulianova, ospedale, ambulanza al posto del tunnel. La ASL ha deciso di non utilizzare più il passaggio riscaldato che collega i padiglioni di degenza a quelli per le diagnosi. E poi, cronaca, scippato sotto casa, l'avvocato Alberta Ortolani, doppio colpo in centro. Mentre a Silvi, sempre per la cronaca, la Primula Rossa finisce in trappola. Ci spostiamo in Val Vibrata, Villa Rosa, il cimitero usato come discarica. Vedete questa foto del messaggero, il sindaco Camaglioni dice ci sono furbetti che arrivano dai comuni vicini per abbandonare sacchi di spazzatura. E poi, ancora a Val Vibrata, strade, la 259 promossa ad Arteria Nazionale, mentre in basso chiude l'Odeon, la città senza cinema, a Roseto degli Abruzzi. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme, in questo caso, invece le pagine del quotidiano La Città di Teramo. Avevamo visto poco fa, all'inizio della nostra consueta rassegna stampa, la prima pagina del quotidiano La Città di Teramo. Ora andiamo a vedere, lo faremo come sempre tra qualche istante, andremo a vedere le pagine interne, ma in attesa della visualizzazione della pagina torniamo a parlare un attimo del problema frane nel Teramano con il servizio di Tania Bonnici Castelli che ha esaminato la difficile situazione che si sta vivendo a Ponzano di Civitella del Tronto. In questo momento la frana di Ponzano, frazione di Civitella del Tronto, rappresenta l'emergenza più grande d'Abruzzo. Il vasso versante collinare sta smottando e non si ferma, evacuate finora 80 persone dichiarate inagibili 24 abitazioni ed è solo l'inizio. Il presidente D'Alfonso ha effettuato un sopralluogo con il prefetto di Teramo ed è già operativa nella zona la protezione civile nazionale in appoggio ai vigili del fuoco e ai volontari della Cives. La situazione qui a Ponzano della frana è una situazione gravissima. Nel giro di un giorno è diventata veramente catastrofica la situazione perché gli abitanti ci hanno avvertito in comune di iniziare a sentire degli scricchioli in casa ma nel giro di poche ore poi è venuta giù una collina e noi siamo stati costretti appunto in un arco temporale ristrettissimo ad evacuare 24 nuclei familiari per 76 persone. Allo Stato la frana è ancora in movimento tant'è che ogni giorno registriamo spostamenti notevoli anche ad occhi insomma riusciamo a misurarli ho chiesto l'intervento della protezione civile nazionale perché a questo punto bisogna capire esattamente l'estensione e l'entità del fenomeno franoso perché qui adesso abbiamo evacuato tutto questo nucleo abitativo a valle ci sono ulteriori abitazioni quindi in assoluta urgenza dobbiamo verificare qual è l'entità del fenomeno e poi bisogna cominciare a capire che tipo di intervento andrà fatto qui. Intanto le strade per Ponzano sono interrotte la provinciale Otto si è abbassata di oltre 4 metri e con le ore che passano le voragini sembrano sprofondare a vista d'occhio qual è la catastrofe che si sta attuando qui a Ponzano? Beh qui è una catastrofe molto grave che si sta muovendo un fronte di 500 metri lineari dove sta coinvolgendo le abitazioni sono state sono state evaporate oltre 80 persone e c'è ancora il rischio che altre abitazioni vengano interessate è un fronte che secondo me non ha storia in questo luogo ma penso nella regione Abruzzo perché è una massa che secondo me non ci sarà freno non ci sarà esaurimento di questo punto cioè lei dice che non si potrà fermare ma io in questo momento non lo vedo la possibilità di fermare è difficile la gente di Ponzano è sotto shock una frazione che conta 250 abitanti e dove tanti di loro in poche ore hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni che stanno visibilmente scivolando a valle lunedì mattina si sentiva dei rumori dentro casa e subito mia sorella ha cominciato a gridare che succede che succede sono usciti infatti vedevano già che c'era la frana che veniva su sulla casa quindi avete dovuto abbandonare le case immediatamente tutti quanti è una stretta al cuore vedere queste persone e dover abbandonare le proprie case forse per sempre lo fanno con grande dignità ma non riescono a trattenere le lacrime e a ripetere è troppo dura perdere tutto così dopo una vita di sacrifici restiamo proprio in argomento parlando delle conseguenze del terremoto del maltempo dalle pagine del quotidiano la città terremoto danni per 23 miliardi di euro la protezione civile trasmette il dossier dell'unione europea per l'attivazione del fondo di solidarietà andiamo avanti sempre dalle pagine del quotidiano la città ricostruzione stretta finale sulla nomina all'ufficio sisma braccio di ferro a tre sulle pinetese d'alberto il terramano cianciotta e l'aquilano fabrizi a breve la scelta e poi in basso decreto sisma i sindacati stanno con il presidente della provincia Renzo di Sabatino e poi l'inchiesta chiesta l'archivazione per le protesi tossiche per la procura l'accusa di lesioni è insostenibile i pazienti impiantati si rivolgono alla giustizia civile e poi sanità a a a cercasi primari negli ospedali terramani reparti cardine scoperti facenti funzione stabili dirigenti unici su tre sedi e rischio mobilità passiva per i pensionamenti e poi ex consorzio industriale la will annuncia esposti multipli sulla gestione Arap in basso pianta organica nulla osta della regione per 86 assunzioni alla ASL l'annuncio dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci articoli che abbiamo ritrovato anche sul centro e sul messaggero e poi 11 anni di promesse dimenticate alla torre la discarica franata il 17 febbraio del 2006 era e resta una costosissima bomba ecologica che continua ad inghiottire soldi proseguiamo Teramo rinvia e Urbino si gode il grande Ivan alla città natale del cantautore rock non riesce a mettere in piedi pigro eppure anche nelle Marche c'è stato il terremoto siamo alla pagina della provincia ecco ritroviamo l'articolo sulla frana di Ponzano di Civitella abbiamo appena visto il servizio di Tania Bonnici Castelli in basso Pietracamela cessato l'allarme valanghi prati di Tivo pronti alla riapertura e poi la manifestazione sarà aperta a tutti i sindaci di Colledare Castelcastagna confermono la presenza alla protesta di sabato al casello dell'autostrada a 24 e poi Enologia Colline Terramane cresce del 13% il vino certificato dalle doc proseguiamo pagina della Val Vibrata Civitella del Tronto nasce il comitato cittadino contro lo spopolamento del centro storico e poi a Santomero spacciavano cocaina davanti all'ospedale quattro arresti da parte dei carabinieri in basso Corropoli incontro per contrastare bullismo e cyberbullismo pagina di Giulianova Mociano scuole vertice in comune con i genitori sulla Pagliaccetti il sindaco rassicura studenti in aula a settembre sempre a Giulianova spiaggiato l'arenile sarà ripulito entro Pasqua pagina di Roseto Pineto Atrisilvi monta la protesta contro le regole della MP si parliamo della zona del Cerrano dell'area marina protetta del Cerrano bagnatori e possessori di cani sul piede di guerra per le troppe restrizioni e poi Roseto Simone Aloisi da reggente al segretario del partito democratico in basso ad Atri una lezione di integrazione al teatro comunale siamo arrivati alla pagina dello sport con notizie che riguardano il Teramo perché il direttore sportivo bianco rosso sarà Mingusi il patron Campitelli avrebbe accelerato con il dirigente che al terzo tentativo stavolta potrebbe spuntarla e la notizia che riguarda il Teramo ci dà l'opportunità di parlare di sport anche dalle pagine del centro e del messaggero come detto per il Pescara sono ore importanti per quanto riguarda la formazione bianca-azzurra dopo l'esonero di Massimo Oddo si guarda al nome del nuovo allenatore e diciamo la notizia ne abbiamo parlato tanto anche ieri delle ultime ore riguarda la trattativa già in essere con Zeman che dovrebbe dare una risposta nelle prossime ore al Pescara ieri mattina c'era grande ottimismo poi nel pomeriggio l'ottimismo è un po' calato ma non sono escluse sorprese vediamo la doppia pagina del centro la trattativa il Pescara spinge Zeman è ad un passo l'allenatore apre torno da voi tutto può succedere il Boemo punta su Caprari ma la garanzia è Peppe Pavone poi in basso una notizia che riguarda invece il calcio giocato perché c'è un nuovo stop per l'attaccante Bebec che salterà la gara di domenica con il Genomo andiamo a vedere sulla vicenda Pescara il servizio di Andrea Costantini un ritorno di Zeman al Pescara si va verso il no almeno per l'immediato il discorso semmai potrebbe essere riaperto in vista della prossima stagione quasi certamente in Serie B è stata un'altra giornata convulsa in casa del Delfino nella quale il momento clou è stato il viaggio romano del presidente Sebastiani e i due DS Leone e Pavone i quali hanno incontrato a pranzo Zeman il principale obiettivo per il dopo Massimo Oddo alla fine della chiacchierata i colleghi di Sky hanno intercettato il boemo riaccompagnato a casa proprio da Sebastiani se ho accettato la proposta la proposta era di mangiare e l'ho accettata ha dichiarato Zeman siamo andati a mangiare e si mangia bene i rapporti con Sebastiani sono come sempre se c'è la possibilità di tornare ad allenare il Pescara tutto può succedere non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi non si è scomposto Zeman la proposta messa sul piatto da Sebastiani era un contratto da un anno e mezzo 100.000 euro da oggi a giugno e 400.000 euro per la prossima stagione compreso il premio promozione subito dopo Sebastiani Leone e Pavone sono ripartiti la volta di Pescara e si sono recati al poggio degli olivi per incontrare la squadra e l'uomo cui è stata al momento affidata Luciano Zauri mentre sembrava profilarsi una giornata di riflessione per Zeman è stato lo stesso Sebastiani nel terzo pomeriggio a chiarire per ora escluderei il ritorno di Zeman è da considerarsi in ottica futura tra noi i rapporti sono buoni ma questa squadra non è adatta a lui e al suo sistema di gioco i direttori Leone e Pavone prosegue Sebastiani ascolteranno altri allenatori ma sempre in prospettiva futura e non è da escludere che la stagione sia portata a termine dall'attuale collaboratore tecnico Luciano Zauri dunque frenata sul fronte Zeman per l'immediato oltre alla soluzione interna Zauri potrebbero essere vagliati altri profili uno è quello di Andrea Mandorlini che guarda caso da poche ore ha risolto il contratto che lo legava all'Ellas Verona anche se i trascorsi scaligeri non lo aiutano visto l'astio tra Verona e Pescara ha cresciuto proprio nel periodo con Mandorlini sulla panchina giallo-blu allora tra i profili più quotati per traghettare la squadra a giugno c'è quello di Fabio Liverani ex Palermo e Leighton Orient intanto è certo che Zauri guiderà la squadra domenica contro il Genoa mentre le riflessioni in casa Pescara sono destinate a proseguire siamo in chiusura Lega Pro Golotti studia un nuovo Teramo per cambiare rotta dunque il tecnico Biancorosso il neotecnico Biancorosso al lavoro poi i recuperi dei dilettanti pareggio tra Penne e Martinsicuro e vittoria del San Buceto in casa del Montorio poi il basket di Cosmo Chieti ti regalo De Cosi per la salvezza Mei Roseto ora tutte finali per conquistare un posto nei playoff chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero se riusciamo a fare in pochissimi secondi ovviamente nelle edizioni del TG6 di oggi delle 14 e delle 19 vi daremo ulteriori notizie proprio sulla trattativa che è ancora in corso tra Pescara e Zeman per decidere se il tecnico Boemo arriverà in Abruzzo nelle prossime ore ovviamente c'è grande attesa tra i tifosi del Pescara per quella che fino a qualche ora fa sembrava una cosa irrealizzabile la risposta di Zeman sì no forse questo è il titolo del messaggero in basso col paccio della Proger ingaggiato De Cosi parliamo ovviamente di basket nella pagina successiva il calcio di Serie D Chiodi ora l'Aquila è pronta ad affrontare tutto Bolami alza la voce rispetto per Lavastese poi il Teramo e l'Avezzano il Teramo Lega Pro per Ugolotti sette giorni di fuoco invece ad Avezzano torniamo la Serie D cedere l'Avezzano per adesso niente offerte dice il patron Gianni Paris noi siamo davvero arrivati al termine di questo appuntamento del 16 febbraio con Mattino 6 io ringrazio come sempre voi per averci seguito ringrazio Claudio Di Giacomo in regia vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata con la prima edizione Grazie a tutti